Oltre 2 milioni per l'agricoltura lucchese serviranno per il miglioramento delle aziende agricole, la salvaguardia dei boschi e la stabilità idrogeologica del territorio. Nasce il tavolo di lavoro per Viale Europa, le amministrazioni competenti e le associazioni di categoria si incontreranno per migliorare la viabilità e i servizi. Presentato il Buccherini Open 2012 nel prestigioso Conservatorio Lucchese, il gota della musica classica e del jazz. E per lo sport, Lemura, il tifoso critica, la società risponde, il presidente Cavallo non approva lo striscione al Palasport e risponde per le rime al polemico sostenitore. Di nuovo buonasera, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Giorgio Del Ghingaro l'aveva promesso circa due settimane fa, l'indomani della presentazione della nuova ordinanza per la circolazione sul Viale Europa. Aveva detto Del Ghingaro, convocherò le parti per mettere in piedi un tavolo di lavoro. Ebbene, ieri questo è accaduto, alla fine della discussione si è deciso di rendere permanente questo tavolo. I dettagli nel servizio. È nato stamattina il tavolo di lavoro per il miglioramento di Viale Europa. Dall'incontro tra il sindaco di Capano, il Giorgio Del Ghingaro, il vice sindaco Luca Menezini e il comitato infrastrutture della Camera di Commercio, è emersa la necessità di aprire un dialogo per intervenire sulla viabilità esistente per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Da qui la nascita ufficiale di un tavolo per il miglioramento di Viale Europa, che si riunirà con cadenza periodica. A metà aprile, quindi, in una sede da stabilire del Ghingaro e i rappresentanti di categoria, si ritroveranno un'altra volta per dare operatività al progetto condiviso. Tutti i partecipanti alla riunione, infatti, ritengono che sia necessario stabilire le priorità di intervento, i tempi e dove rivolgersi per il reperimento dei finanziamenti. Inoltre, al tavolo per il miglioramento di Viale Europa saranno invitati tutti gli enti competenti in materia. L'ordinanza, oggi in vigore, frutto di una mediazione realizzata dal prefetto Giuffrida, sostiene il sindaco Del Ghingaro, non è risolutiva sulla questione mobilità. Per questo il tema merita un confronto aperto e condiviso per riuscire a elaborare strategie che diano maggiori opportunità all'intero territorio, sia dal punto di vista della qualità della vita, sia da quello della competitività del sistema imprenditoriale. Viale Europa rappresenta una delle strade maggiormente transitate dai mezzi pesanti, per cui cominciare un percorso unitario proprio da questa etteria è doveroso, conclude Del Ghingaro. Il tavolo sarà operativo subito dopo Pasqua e tratterà di temi pratici, come il numero delle rotonde da fare o la necessità di nuovi passaggi pedonali. La cronaca a fuoco le colline lucchesi, dopo Camaiore anche in località Carignano si è sviluppato un incendio, le fiamme sono divampate intorno alle 14.30, le operazioni di spegnimento sono durate parecchie ore, sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigi del fuoco, un elicottero della regione e i volontari dell'antincendio boschivo. Le fiamme partite in più punti sono arrivate a lambire alcune abitazioni che però non hanno riportato fortunatamente alcun danno. Le opere di bonifica sono tuttora in corso anche sul Monte Prana, nel comune di Camaiore, dove nel pomeriggio di ieri era scoppiato un incendio che ha mandato in fumo circa due ettari di bosco. Ed è stata presentata stamattina a Palazzo Ducale la programmazione generale per le risorse del 2013. Sul territorio provinciale saranno investiti 2 milioni e 280 mila euro. I dettagli nel servizio di Marco Baldocchi. Strade, acquedotti rurali, elettrodotti e più in generale infrastrutture a servizio dell'agricoltura. Ecco come sarà investita una parte cospicua degli oltre 2 milioni e 280 mila euro che la regione toscana ha assegnato alla provincia di Lucca per il 2013 come contributo per il piano locale di sviluppo rurale. È importante sottolineare come degli oltre 2 milioni assegnati alla provincia, 547 mila euro rappresentano una sorta di premialità che la regione toscana ha voluto concedere ad un territorio che in questi anni ha dimostrato ottima capacità progettuale e ha sfruttato ogni opportunità offerta dai bandi europei. In buona sostanza, aver investito sul territorio con capacità e tempestività i soldi della comunità europea ha permesso di accedere a questi nuovi contributi. La giunta di Palazzo Ducale ha scelto di destinare le risorse al 2013 per mantenere lo schema di intervento degli anni precedenti, privilegiando quindi gli investimenti per il miglioramento delle aziende agricole, la loro diversificazione, la salvaguardia dei boschi e la stabilità idrogeologica del territorio. La novità più importante consiste nel fatto che per utilizzare al meglio queste risorse l'amministrazione provinciale, in accordo con le associazioni di categoria e con l'Unione dei Comuni, interna realizzare un piano di area in modo da pianificare e ottimizzare gli interventi, evitando sovrapposizioni e quindi specchi. La GEAL ha giudicato le gare di appalto per prolungare le fognature e l'acquedotto nell'oltre Serchio e negli altri paesi. Si tratta di affidamenti pari a 1,7 milioni di euro immediatamente cantierabili. L'appalto più consistente, cioè l'estensione fognaria in via Nieri a San Cassiano a Vico, è andato all'impresa Giannini Giusto SRL di Porcari per un importo di 615 mila euro. Elezione plebiscitaria per Ademaro Cordoni, riconfermato presidente provinciale di Confcommercio. Il verdetto atteso ma teoricamente non scontato è arrivato nel corso dell'assemblea che si è tenuta mercoledì sera a Palazzo Sani. Vediamo. Ademaro Cordoni è stato rieletto presidente provinciale di Confcommercio Lucca. Il verdetto è arrivato mercoledì sera quando i cosiddetti grandi elettori, ovvero i rappresentanti di Valle del Serchio, Piana Versilia e Città Capoluogo, nominati nelle scorse settimane nel corso delle riunioni preliminari tenutesi sul territorio, hanno ribadito la propria fiducia al presidente uscente. Cordoni del resto era l'unico candidato in lizza, a dimostrazione che la base era tutta con lui. Secondo mandato consecutivo dunque con il rieletto presidente che resterà in carica sino al 2016. Tutti e 37 i grandi elettori hanno espresso il loro voto nei suoi confronti, nessuna scheda bianca e dunque elezione all'unanimità. Un plebiscito forse scontato ma che ha commosso lo stesso Cordoni. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore Rodolfo Pasquini, il quale sottolinea l'importanza di una linea di continuità che garantirà stabilità all'associazione e rappresenterà un punto di appoggio fondamentale per tutti gli associati in una fase di grave crisi economica generale come quella che stiamo vivendo. L'impegno che ci siamo presi, ha commentato Cordoni a caldo, nel momento in cui abbiamo deciso di proseguire questo percorso è quello di moltiplicare ancora di più i nostri sforzi a tutela degli associati, convinti del fatto che, uniti, si possa venire fuori dalla difficile situazione in cui versa il mondo del commercio. Alla Presidente rieletto, gli auguri di buon lavoro anche dalla nostra redazione. E dopo la fase di sperimentazione, la Capanno Riccardo arriva anche agli istituti scolastici di Lunata e Marlia. Il sistema, secondo l'amministrazione comunale, è molto più moderno e veloce perché prevede l'abolizione dei blocchetti dei buoni pasto cartacei con l'obiettivo di semplificare le procedure. Alle famiglie viene infatti distribuita una tessera magnetica personalizzata, gratuita, simile a quella del Bancomat, con la quale si può pagare il servizio mensa attraverso una semplice ricarica della tessera da effettuarsi all'ufficio relazioni con il pubblico del comune in piazza Aldomoro oppure agli sportelli del cittadino di Marlia e San Leonardo in Treponzio. Ci spostiamo ancora a Lucca dove è stato presentato stamane il ricco cartellone del Boccherini Open di primavera. In questa rassegna si segnalano la presenza del primo violinista della filarmonica di Berlino, Capponi, e quella del celeberrimo gezzista Rava. Il servizio. Direttore, forse a volte si esagera dicendo eccellenza, però per quanto riguarda Boccherini, per quanto riguarda questa manifestazione si può davvero parlare di eccellenza. Io credo proprio di sì, ormai sono al terzo anno di questa edizione di Open, che è il nostro acronimo delle nostre ospite in concerto, performance, eventi e note d'arte e di cultura. Io credo che questa sia un'eccellenza veramente. Sono venuti in questi anni quattro premi Oscar a trovarci. Quest'anno ci sono eventi eccezionali come la realizzazione della nona di Beethoven, come Enrico Rava che verrà a trovarci, il grande gezzista, a parlare con i nostri allievi. Credo che veramente sia un'attività di eccellenza e spero che la città se ne renda conto. Credo che un altro aspetto che non è da sottovalutare in questo momento anche di crisi concettistica sia il fatto che sia tutto gratuito. Questa è la nostra prerogativa. Noi vogliamo che sia tutto gratuito e questo lo possiamo anche permettere grazie all'intervento dei nostri sponsor, della fondazione e delle fondazioni bancarie qui di Lucca che ce lo permettono. Però noi vogliamo che sia così, perché vogliamo il Boccherini aperto, vogliamo che il Boccherini sia presente in città, vogliamo che la città possa partecipare senza nessun ostacolo a questo. L'importanza del Boccherini Open, che si svolgerà da Paile fino a giugno, non è data solo dai grandi personaggi che giungeranno a Lucca, ma anche per il forte impatto didattico sugli allievi del Conservatorio Lucchese. C'è la possibilità per gli studenti di suonare, quindi di essere parte effettiva dell'esecuzione, come nella Nona di Beethoven che faremo a giugno e di altri concerti come ad esempio con il violinista Cappone, dove sarà l'orchestra del Boccherini ad accompagnare questo grande solista e grande musicista a livello internazionale. È chiaramente un arricchimento è un qualcosa che non tutti gli istituti a questo livello riescono a dare, a proporre al corpo studente. Scade martedì 3 aprile alle 20 il termine per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 5 e 6 maggio prossimi. Le liste dovranno essere presentate nei locali predisposti appositamente al piano terra di Palazzo Orsetti, in via Santa Giustina numero 6. mercoledì dunque sapremo se tutti e 11 i candidati che sinora si sono proposti saranno davvero della partita a queste che davvero sembrano essere elezioni molto affollate nel primo turno. Domani a mezzogiorno inaugura la quinta edizione di Verde Mura, la manifestazione dedicata al giardinaggio e all'area aperta, organizzata dal Comune, dall'Opera delle Mura con il sostegno delle fondazioni. Si conferma come lo scorso anno l'aumento dello spazio espositivo e di iniziative di promozione per far vivere agli appassionati un weekend di sogno a Lucca. domani inaugura anche Terme Benessere all'attuale polo feristico, all'ex oleofficio di Sorbano, un'altra manifestazione che richiamerà sicuramente a Lucca tanti appassionati del cosiddetto Bien Vivre. E domani a partire dalle 20 al bar Dolce Vita di Antonio Rossi a Lunata si terrà il secondo appuntamento del concorso per giovani band musicali Musica a Tasso Zero. Sul palco del Dolce Vita saliranno sei gruppi, Maneggiare con cura, Torpore Vitreo, Le Note Folli, Baffo Men, Shamrock e Norhorn. Le band saranno giudicate da una giuria popolare. Le più brave si sfideranno sul palco del concerto in programma il 30 aprile in piazza Aldomoro a Capanno. Ricordiamo poi il primo maggio il concerto invece con Samuele Bersani, attesissimo appunto per celebrare la giornata del lavoro. L'ingresso a questa serata è libero. Adesso ci fermiamo un secondo per la sigla e poi la ricca pagina sportiva. Allora basket in primo piano, nonostante Lemura sia presti a disputare per la prima volta nella sua storia i playoff per l'assegnazione addirittura del titolo tricolore. Qualche buon tempone ha pensato bene di appendere uno striscione di protesta contro la società bianco-rossa, uno striscione che francamente nessuno ha compreso. Naturalmente in prima battuta la stessa società che davvero più di così non può fare. Marco Baldocchi. È proprio vero, a volte si vuole la botte piena e la moglie ubriaca, o meglio si vuole vedere vincere la propria squadra del cuore ma anche decidere delle scelte societarie. Ecco che lo striscione esposto stamattina al palatagliate e poi rimosso che recitava vince, Lidia, Mirko non si toccano, ha sorpreso e non poco il presidente del basket Lemura, Rodolfo Cavallo, che in una lettera alle redazioni esprime tutto il proprio rammarico per un'ingerenza di qualche tifoso del tutto immotivata e assolutamente da biasimare. Si legge nella lettera comunicato, voglio ribadire con fermezza che questo striscione esprime esattamente anche il pensiero mio e degli altri dirigenti e ancora Lidia Gorlin, Vincenzo Buchignani e Mirko Diamanti, nel rispetto dei rispettivi ruoli, hanno sempre goduto della piena stima, fiducia e autonomia e a loro va da anni il plauso e ringraziamento per il preziosissimo contributo. Il presidente ricorda anche che se dal punto di vista sportivo la stagione sia da incorniciare, sul piano gestionale la situazione sia stata più complessa, un po' come dire, ma questo tutti gli appassionati lucchesi ben sanno, che il miracolo Lemura 2011-2012 è ancora più incredibile se considerato che il piccolo budget lucchese sia dovuto scontrare con società storiche del palcoscenico nazionale. Il presidente invita tutti i tifosi a lasciare stare inutili polemiche e a concentrezzi alla partita di giovedì prossimo, quando al palatagliate arriverà la Diomatico Umbertide. Le mura avranno il vantaggio del fattore campo, essendo arrivate un gradino sopra le rivali, quindi eventuale gara 3 si giocherà al palatagliate e sappiamo quanto quest'anno il fattore campo abbia inciso nel rendimento delle ragazze di Diamanti. Dalle donne agli uomini, in previsione della trasferta a Legnano di domenica prossima, l'Arcantea ha sfruttato i buoni rapporti con la società pistoiese di Lega 2 per giocare in amichevole un buon test infrasettimanale. Le immagini che vedete si riferiscono alla gara di domenica scorsa. Il punteggio, come sempre succede in questi casi, è stato resettato all'inizio di ogni parziale, ma i lucchesi hanno messo in mostra buone cose nell'arco della gara con ottimi frangenti nei quarti dispari. Era un'occasione per verificare soprattutto le condizioni di Diego Zivic, che impegnato contro avversari di grande valore come Galanda e Toppo, ha mostrato di essere sulla via del pieno recupero, giocando in pratica due quarti. Positive le impressioni a fine gara di coach Roberto Russo, l'amichevole è stata buona, al di là di una partenza un po' lenta, poi siamo cresciuti di intensità e le cose sono migliorate. Zivic ha fatto fatica come tutti all'inizio e lui a maggior ragione, dopo uno stop così lungo, poi è andato in crescendo. E dal basket alla ginnastica ritmica, grande soddisfazione per la ritmica Luca e tutto il suo staff, Federica Aviani e Marta Ricucci su tutti, per il terzo posto di Sara Consani, che vediamo in questa foto, alle gare valide come selezioni interregionali di ginnastica ritmica, settore agonistico, che sono svolte ad Andria domenica 25 marzo. La giovanissima atleta lucchese si è disimpegnata con un ottimo esercizio alla fune, eseguito al massimo delle sue possibilità senza errori e con una notevole grinta che ha impressionato la giuria. Nel weekend si è disputato a Grosseto anche il trofeo Wisp Maglio Brozzi, dove la squadra delle ginnaste lucchesi Francesca Della Rocca, Costanza Betti, Lavinia Nardi, Tina Sassetti e Matilde Pacini ha ben figurato conquistando un quarto posto nell'esercizio al corpo libero e un quinto posto con i cerchi. E dalla ginnastica al ciclismo, altra trasferta importante per la Michela Fanini Record Rocks nel prossimo fine settimana. Domenica la formazione lucchese sarà in gara al Giro delle Fiandre, prova di Coppa del Mondo. Lunedì ancora una gara internazionale in Belgio in occasione di un'altra classica. Per questi due giorni nel nord Europa il direttore sportivo Roberto Caru Belencioni ha convocato la russa Burkenkova, la ceca Ruzikova, la campionessa di Israele Ella, la messicana Leal Balderas al suo esordio stagionale nel vecchio continente e le italiane Valentina Scandolara e Lorena Foresi. L'obiettivo ha sottolineato il DS è quello di crescere ancora nella tappa italiana di World Cup a Cittiglio, siamo andati bene soprattutto con la Burkenkova e la Scandolara. Finite nel primo gruppo 23esima e 29esima che si sono messe in luce più volte sull'insidioso tracciato. In Belgio la squadra e i dirigenti utilizzeranno due ammiraglie ASX fornite dalla importante casa automobilistica Mitsubishi Motors Italia, una collaborazione avviata con il Giro della Toscana e che Brunello Fanini è riuscito a confermare anche per il resto della stagione. E questa era la nostra ultima notizia anche per questa sera, vi ricordo che servizi e notizie sono disponibili sul nostro sito dilucca.it. Vi ricordo anche che sabato mattina a partire dalle 11 saremo in diretta dall'antico Caffè delle Mura che dopo tanti anni riaprirà i battenti. è una cerimonia molto attesa perché la città riacquista un monumento straordinario che è testimone davvero della storia della città. Dopo un lungo e anche complesso restauro il Caffè delle Mura dunque riaprirà al pubblico e sabato mattina ci sarà una conferenza dove i tecnici, compreso il sovrintendente Glauco Borella, spiegheranno i dettagli di questo lungo restauro che ha restituito appunto alla città un monumento importante come l'antico Caffè delle Mura e noi vi trasmetteremo in diretta questo evento a partire dalle 11. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.